Il Giro d'Italia 2019 partirà da Bologna. Lo hanno annunciato gli organizzatori della Corsa Rosa, che toccherà in altre due tappe l'Emilia-Romagna. Sabato 11 maggio ci sarà una cronometro individuale di 8,2 km da centro alla salita di San Bocca. La nona frazione domenica 19 maggio, sarà un'altra cronometro individuale da Riccione a San Marino di 34,7 km. Martedì 21 si correrà la 10 barra a tappa, da Ravenna. Grazie per la visione!